Il territorio del Gallo Nero è amato soprattutto dagli stranieri, in testa dagli Stati Uniti, ma è forte crescita anche dalla Francia, attrae gli appassionati del turismo slow e offre esperienze enogastronomiche indimenticabili. È il quadro che emerge da un'indagine condotta dal Consorzio del Chianti Classico sulle aziende socie in merito alle tendenze e profili degli enoturisti, 1,5 milioni quelli che hanno visitato la denominazione nel 2018. A trainare l'enoturismo nel Gallo Nero sono il fascino del paesaggio e la qualità dei vini prodotti. Con permanenze medie tra il weekend lungo e la settimana intera, oltre il 60% dei visitatori, i turisti cercano degustazioni e visite guidate nelle aziende. Oltre il 90% delle aziende offre questo servizio, di cui 43% in maniera continuativa durante l'anno. Poi ci sono i corsi di cucina, il 27%, oppure una visita didattica, un'azienda su 10 le organizza, o un giro in bicicletta. Il turista di oggi cerca poi di calarsi nel lifestyle chiantigiano unendo l'enogastronomia alla storia. Gli stranieri rappresentano l'85% delle presenze, con i visitatori USA al primo posto. La Germania, mercato storico per il chianti classico, registra invece un calo rispetto al passato, ma comunque si attesta sul 15% dei visitatori. In forte crescita nell'ultimo quinquennio sono i turisti provenienti dalla Francia. Oltre un quarto delle aziende vitivinicole hanno infatti ricevuto visitatori francesi nell'ultimo anno.